Buongiorno e benvenuti a questa diretta oggi del 7 marzo sulle questioni che riguardano i giornali italiani. Devo dire che la cosa più incredibile è veramente il treno più pazzo del mondo, altro che l'aereo più pazzo del mondo, quello che riguarda la TAV Torino-Lione. Vi dico soltanto, forse il messaggero oggi lo ricorda perché siamo talmente immersi, si TAV, no TAV, che stiamo parlando di un'opera che costa, perché costa un sacco di soldi, gran parte di questi soldi vengono dati dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, cioè sostanzialmente da noi per verso comunitario, ma si tratta di ridurre la distanza in termini temporali di un'ora e 47 tra Torino e Lione e siamo ancora qua che ne parliamo. Buongiorno Agostine, siamo ancora qua che parliamo se nel 2019 dobbiamo sì o no ridurre la distanza temporale tra Torino e Lione, tra di fatto la pianura padana perché attraverso Torino ci si arriva e una zona fondamentale come la Francia. Siamo qua a parlarne, bene, e soprattutto sono a parlarne quello che conta la politica. Il titolo più bello oggi lo fa Repubblica, che titola Ni TAV, ed ha il senso di quello che avviene, cioè il gran casino governativo. Hanno deciso questa mattina, i giornali non potevano saperlo però lo avevano in mente, di rimandare questa decisione perché si sa Salvini la vuol fare, Di Maio non la vuol fare, dice Travaglio oggi. Ma come? Il punto fondamentale è che Di Maio ha mollato sul TAP, un'altra cosa che sarebbe stata da pazzi non fare, cioè un tubo di 8 km che era già praticamente là e soltanto dei pazzi potevano pensare di arrestare ormai, e dall'altra parte la Lega ha ottenuto il TAP mentre Di Maio ha perso la TAP. E la stessa cosa dovrebbe fare ora la Lega con la TAP, mettendo insieme pere, mere, cioè facendo una specie di ragionamento che soltanto la politica della Prima Repubblica poteva fare, dove gli interessi che contavano erano accontentare le varie componenti della politica e non tanto evidentemente il paese. Direi che su questo c'è poco da dire perché il casino è tale, soprattutto oggi siamo talmente ancora in ballo che non sappiamo veramente che fine farà questa roba. Inter risvista a Renzi oggi di Aldo Cazzullo, lo stesso che pochi giorni fa aveva esaltato la vittoria di Zingaretti e aveva detto forse si sarebbe dovuto cancellare l'esperienza renziana, avrebbe dovuto mollare dopo il referendum. Oggi probabilmente non l'ha mollato del tutto, lo intervista e dice Renzi una cosa che secondo me, e io non riesco a capire come la gente ancora di possa credere. Sentite che cosa dice, sarò leale con Zingaretti. Io vi faccio una previsione, Renzi sarà leale con Zingaretti finché Zingaretti avrà un grande consenso. Nel momento in cui Zingaretti avrà un po' meno consenso, ovviamente la pugnalata da chi potrà arrivare o da D'Alema che sta fuori o da Renzi che è dentro o anche un altro che era abbastanza specialista nel cambiare cavallo all'ultimo era Franceschini. Insomma in questa specie di pattuglia che è il movimento PD io non mi fiderei di nessuno, là starei sempre con una corazzata da tutte le parti. Poi dice delle cose che sono proprio il renzismo, cioè inizia il Movimento 5 Stelle a sgretolarsi perché io dissi di no ad un'alleanza con loro. È fantastica, è veramente questa fantastica, cioè dice si appropria della riduzione dei consensi nei sondaggi quello che da un anno sta facendo il casino perché non si abbia il segretario del PD. Ma va benissimo, io pensate che sono critico verso Renzi politico, ma meno critico verso alcune cose tecniche che lui ha fatto, alcune scelte erano sacrosante, ma questa sua, come posso dire, essere un provinciale toscano è più forte di lui, come nell'intervista che ha fatto ieri, nel racconto che faceva ieri sul suo libro Verdelli, quello che sta a petto nudo e dice ai due giornalisti avete visto quanto me so abbronzato in questa bella villa romana? Cioè è tutta roba sua. Salvini sta iniziando a saturare, questo lo dice Renzi, ci fidiamo di lui. Minzolini, oggi molto interessante retroscena che fa sul giornale, dice che Zingaretti, buongiorno Emma, buongiorno Antonello che vi siete ora collegati, dice Minzolini la calamita di Zingaretti attira voti Griblini e Salvini si occupa degli altri, cioè degli altri delusi, a destra ci pensa Salvini e a sinistra Zingaretti, è un'analisi che mi sembra un pochino più fondata quella di Minzolini, grandissimo conoscitore delle cose politiche. Sulla legittima difesa che è passata, Nello buongiorno, che è passata ieri alla Camera, una cosa buona e giusta ovviamente perché la legittima difesa è sempre legittima, probabilmente non cambierà moltissimo ma l'antipatia che ha nei confronti di questa legge da parte dei magistrati dell'ANM mostrata in tutti i modi mi fa pensare che sia una posizione giusta, lo dico per differenza purtroppo perché gli ANM urlano, 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 urlano e a noi ci fanno pensare che forse i magistrati dovrebbero applicarle, amministrare la giustizia, non discuterla preventivamente, ma la cosa che più mi fa pensare, sentite un po' voi, perché uno dice adesso c'è il govello giallo-verde, che schifo, la TAV, tutto, avete ragione da vendere, pensate il casino che stanno facendo sulla TAV che è un'opera buona e giusta, poi però leggete la dichiarazione di questo Alfredo Bazzoli, Alfredo Bazzoli è un esponente del PD, secondo me bresciano, secondo me bazzoliano, molto importante questo Alfredo Bazzoli e che cosa dice Alfredo Bazzoli? C'è un deputato del PD, che cosa dice oggi rispetto alla legittima difesa che peraltro loro stessi del PD avevano cambiato e peraltro secondo quello che dice Travaglio, non so se sia vero, c'è poco da fidarsi, la legittima difesa della lega è molto simile a una proposta del PD che poi fu cancellata. Bene, cosa dice Alfredo Bazzoli? Peggio degli stati islamici che usano le fruste e il taglio delle mani, avete capito? Peggio degli stati islamici, cioè secondo lui, secondo un deputato del PD questa legge sulla legittima difesa sarebbe peggio degli stati islamici. Allora, quando un parlamentare del PD dice queste cose tu dici, beh, per fortuna che mi sono risvegliato una mattina e non mi sono più ritrovato il PD al governo con questi qua. Certo, poi abbiamo la sinistra del Movimento 5 Stelle che in 25, perfettamente in entesa con Bazzoli, questa legge non l'hanno votata. Beh, la cosa del reddito di cittadinanza è fantastica, fatemelo dire, io lo trovo orrendo, trovo che il reddito di cittadinanza, come dicono i vescovi, oggi l'hanno scritto da qualche parte, l'ha scritto il foglio e lo mette in evidenza, siano un aiuto alla pigrizia e non alla produttività di un paese, la trovo una misura congegnata ma pensata ancora peggio. Fatta questa premessa e tutti quelli che vedono la zuppa lo sanno, lo sanno come la penso, beh, ieri quando io leggevo tutti i giornali che dicevano ci saranno le code, ci saranno le file, ci sarà un casino, al CAF ci saranno... Questo casino, questo procurato allarme, quei geni dei giornali titolavano in prima pagina questa roba qua. Oggi smentiscono loro stessi, cioè non è possibile. Poi tu ti chiedi perché ieri abbiamo fatto, anzi il record ieri del mio sito, abbiamo fatto 70.000 utenti unici sul mio sito, che è un numero che non si era mai visto, diciamo, nella breve vita del mio sito, quindi ringrazio tutti voi che siete anche andati a vedere il sito nicolaporro.it. Ma quando tu vedi che 70.000 persone vanno sul mio sito e i giornali vendono più o meno quelle copie, capisci che se i giornali pensano che la realtà sia che c'erano le file alle poste, ieri mi hanno citato tutti quanti i titoli sulle file alle poste e oggi mi fanno tutti i titoli dicendo, oh non c'erano le file alle poste, cioè smettendo qualcosa che era falso e che ieri loro presumevano fosse vero, allora se questo è il tipo di fare giornalismo, viva, viva i nostri siti. Mi spiace perché faccio il vice direttore di un giornale di cui per esempio oggi la tesi è che a prendere il reddito di cidenanza ci sono molti più immigrati di quanto ci si immaginasse, ci sono alcuni terroristi, ex terroristi e ci sono molti rom. Tutte cose che si dicevano che sarebbero avvenute e che poi ovviamente avvengono, posto che è un reddito che andrà a tutti i cittadini che almeno da 10 anni sono in Italia. Insomma, questa piccola rassegna stampa di oggi e poi come sempre sul sito nicolaporro.it tante notizie e tante novità, come sempre per stare aggiornati sulla realtà quotidiana. Ciao!